good morning berlin ragazzi anche questo video non era in previsione questo è un pianto amaro di quello che sto vedendo una cosa paurosa mi riferisco al messo sto lontano dallo stress mi prendo il mess allora la volete finire ma io manco volevo fare il video a parte gente che mi scrive poi vedo sotto gli altri hanno ratificato firmato il mess va bene tutti quelli che scrivono sotto sia a me è stato Matteo perché intanto fanno passare il mess stanno firmando il mess stanno firmando il mess fino a quando gente che scrive nei commenti dico vabbè questi sono scemi che vuoi fare noi canali di controinformazione alcuni che stimo pure nel senso che fanno i tg guardate qui il giornale allora io non posso credere che questa gente non abbia capito che non si sta firmando il mess per utilizzare che l'italia per utilizzare il mess come fece la grecia quando fallita si sta firmando tutti gli stati europei questa riforma sul mess che la firmano tutti e non la prende nessuno non la usa nessuno nel senso chi poi non lo so avrà problemi la vorrà utilizzare come la utilizza stessa cosa di adesso quindi cosa si sta tutti siete convinti e vabbè lascio perdere non vale un video ma mo che proprio quelli della controinformazione leggono i giornali della repubblica guardate la meloni sta facendo il mess la meloni non sta a firmare un mess nel senso che utilizziamo il mess vabbè il primo che prende a caso guarda allora poi rileggo dall'inizio paolo gentiloni prova a riportare un po di un po di buon senso nel confuso dibattito italiano la ratifica sarebbe certamente positiva ma la decisione spetta al governo italiano la ratifica non significa vedremo in che termini in che tempi verrà presa due cose sono sicure l'italia è stata tra i paesi che circa due anni fa hanno deciso questa riforma che è utile poi sottolinea ciascun paese può decidere se utilizzare oppure no alcuni strumenti che il mess metta a disposizione mentre attenzione la ratifica serve all'insieme dei paesi membri a prescindere da chi lo utilizzerà oppure no ieri a bruxelles è riunito l'erogruppo con la partecipazione del ministro dell'economia giancarlo giorgetti che ha iniziato a mettere sul piatto il tema che il governo vuole spendersi come contropartita al via libera del meso ossia la revisione di alcuni punti del pnr c'è la necessità di rivedere la politica degli aiuti di stato che deve diventare meno burocratica e più flessibile ha detto giorgetti questo deve valere anche per gli strumenti già costituiti come next generation eu un atto doveroso spiega di fronte soprattutto per le mutate condizioni di contesto economico di prezzi e disponibilità di materiale la stessa linea viene sostenuta dal ministro vabbè che ricordo come forza Italia si sembra favorevole sia pur con regole meno severe spiega se si chiede flessibilità all'europa stiamo facendo bisogna come stiamo facendo bisogna anche essere disponibili noi alla stessa flessibilità sul messo il dialogo va avanti e sono ottimisti ma può darsi che nessuno ha capito questo porca miseria ragazzi mi spiace perché oggi ho visto non pensavo che la gente stanno facendo quest'anno in malafede non stiamo firmando la ratifica che stanno facendo non significa che noi dopo utilizziamo il messo lo volete capire o no basta ieri urbano allora il messo come lo aspetta ora vi trovo un'altra se la qui esco un attimo ecco qua la ratifica del mandato ovviamente si affrettano a chiarire il governo la ratifica del messo non significa che l'Italia ricorrerà al fondo salva stati anzi non lo apriamo qui finanzi lo volete capire non è possibile non è possibile trattato significa accordo tra stati allora prepara retromarcia segnali arrivano all'incontro tra noi e Giorgetti all'esecutivo ormai rassegnato ma alcune intenzioni di forzare la mano non abbiamo altra scelta il mess ha da fare non il mess che noi al netto delle dichiarazioni di facciata nell'esecutivo cresce sempre di più la consapevolezza che la ratifica è solo questione di tempo non abbiamo altra scelta ha detto Giorgetti quanto avrebbe ribadito ai colleghi di governo dopo il colloquio il presidente durante la sua vita era a Roma quindi qui si sta dicendo l'Italia non vuole firmare questo non il mess che prende il mess la ratifica del contratto di tutti questi 27 allora convinto che riusciremo a compiere progressi nella ratifica nell'attuazione del trattato dei meccanismi è una riforma fondamentale che ci offre strumenti più comuni per affrontare la crisi parole tutt'altro che si vivi ovviamente si affettano a chiarire al governo la ratifica del mess non significa che l'Italia ricorrerà al fondo salva stati anzi finché io conto qualcosa che l'Italia non acceda al mess lo posso firmare col sangue ha garantito il presidente del consiglio a fine dicembre allora utilizzarlo significa quello che temete voi che mischiate con la ratifica finora Roma ha temporarizzato in attesa di notizie da Berlino pur la Germania deve firmare il mess secondo voi la Germania utilizza il mess e lo deve firmare la ratifica trattato la Germania era l'unico paese dell'eurozona non aver ancora ratificato la riforma del mess attendendo proprio la pronuncia della corte di Karlsruhe che è arrivata all'inizio dicembre quando ha respinto il ricorso sul mess dando fatto lì la libera alla ratifica che significa che Berlino adesso utilizza il mess dai spiegatemi Berlino adesso utilizza il mess secondo le vostre cose guarda non mi sto incazzare per quelli che non avete capito un cavolo mi mischiato ma questi mistificatori dalla contri informazioni che non è possibile che non lo sanno ma lasciano chiaramente trapelare che noi adesso utilizziamo il mess con questa storia della ratifica perché? perché devono attaccare la melone perché senza avere la melone come un dravi un mazzo di questi a chiudo basta Bruxelles piega ancora Roma vabbè questo perché non vuole firmare sta ratifica non perché lo deve utilizzare e comunque ritorno all'altro articolo questo lo firmò Giuseppe Conte addirittura allora premio che oggi si appresta allegramente dimentico a guidare la rivolta parlamentare contro il suo stesso trattato mentre il governo deve fronteggiare gli attacchi anche delle altre opposizioni che punzecchino il centrodestra per la nuova retromarcia ma la direzione di marcia è segnata e che il sì italiano al mess il ripeto il sì italiano al mess non significa che noi firmiamo per utilizzarlo si è inevitato vabbè è un problema ogni ora la ratifica ci sarà un attimo quindi speriamo anche il direttore del mess Pier Gramegna che pochi giorni fa ha incontrato melone a Roma si mostra sereno abbiamo avuto un ottimo scambio d'opinione ora è tutto nel mano di parlamento europeo dobbiamo rispettare le procedure democratice ogni paese per la ratifica mentre il commissario italiano e i politico gentilone e vabbè ve l'ho letto eh il paese ciascun paese può decidere se utilizzarlo o no alcuni strumenti che non si mettono in dispensa questa firma di sta roba non è che l'italia non utilizza il mess basta mi ha appena scritto uno mi ha detto scusa luigi mi sfoglio un attimo il nuovo libro perché sai dove fanno investimento non ho capito che c'è sono tutte le miniature c'è una prefazione una postfazione una postfazione sono tutte le miniature eccole non posso far vedere tutto il libro comunque ti faccio vedere una c'è il titolo ma non sembra parlare me l'ha chiesto scusate titolo data titolo data miniatura link link per chi non ha il telefono col q-code lo copia e vede il video ecco qua è tutto così ecco soddisfatto vabbè ragazzi scusate l'incazzatura ma non faccio video in generale ieri vabbè è successo con un attimo di sinuomo tu avevi visto il coso di gente intanto io sto parlando dei documenti quello che parla la giletti non ha mai parlato dei documenti della trattativa stato mafia capite quindi non è che ho copiato a quella ma che andate trovato che volete l'abbè lasciamo perdere non mi piace essere così però dai oggi quel mess il mess il mess il mess mi ha preso in conclusione scusa ma mi informo perchè so perfettamente che noi non stiamo firmando il mess per utilizzarlo con il governo italiano allora ho detto ma qua ci vuoi tutti il mess hanno preso Matteo di Sianinano per non far vedere che stanno firmando il mess non stanno firmando il mess e gioco a pes oh yeah sto lontano dallo stress dal mess fumo un po' e poi gioco a mess see you later a buongiorno